Una stagione fortunata per l'attore palermitano Sergio Vespertino impegnato tra teatro, cinema e tv. Sino al 27 giugno sarei scena a Palermo al Teatro Agricantus per Palermo Non Scema Festival con Papà alla Coq. Lo spettacolo Papà alla Coq parla soprattutto di noi uomini, di come viene stravolta la nostra vita nel momento stesso in cui nasce una creatura, ti nasce un figlio e allora devi fare i conti con questa nuova avventura che è totalmente diverso da quello che tu in precedenza avevi fatto. Si ride per tutto quello che è dalla comunicazione al travaglio, al parto, nel momento stesso in cui entra per la prima volta a casa tua questa creatura e tutte le conseguenze di chi ti sta attorno. Quindi parlo anche della compagna, della moglie, del nascituro. Si ride, si ride continuamente. È importante sottolineare anche le musiche originali di Pier Paolo Petta che con la sua fisarmonica tiene questi ritmi dello spettacolo. L'eclettico attore Sergio Vespertino in questi giorni è impegnato anche sul set del nuovo film di Aldo Baglio la cui uscita è prevista tra dicembre di quest'anno e gennaio 2022. E poi lo ritroveremo anche in tv all'interno dell'amatissima fiction Rai Il Paradiso delle Signore. Sì, oltre il teatro mi trovo coinvolto in un set cinematografico del nuovo film di Aldo Baglio si chiamerà Una Boccata d'Aria. Attualmente il set è qui in Sicilia. Io sono come personaggio un suo vecchio compagno di classe, nonché anche sindaco del paesino qui in Sicilia. Dovrebbe andare poi al cinema intorno dicembre prossimo o gennaio. Inoltre, sempre con questo stesso baffo, mi trovo coinvolto nella soppopera Il Paradiso delle Signore con il personaggio Girolamo Mirata. Un Cialtrone